uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le news riguardanti il mondo di fortnite sempre belle fresche ogni mattina per voi come vi anticipavo ieri siamo in un periodo di stallo qualche giorno di tranquillità per ciò che riguarda appunto gli aggiornamenti in game quindi non abbiamo nuove skin visto che nella patch precedente non è stato inserito nulla di interessante ma siamo molto molto fiduciosi che questo martedì o meglio quello che arriverà porterà una bella ventata di aria fresca con tante news e tante informazioni comunque nel video di oggi ragazzi parleremo dei primi concept per le skin di natale 2019 halloween è finito da una manciata di giorni già si pensa al prossimo evento che ovviamente è tutto quello riguardante il natale entreremo di già anche nella seconda season del capitolo 2 in quanto questa terminerà i primi giorni di dicembre per dare appunto tutto lo spazio necessario al prossimo evento abbastanza sentito da tutto il team di epic games ma parleremo anche in realtà di alcuni oggetti trovati in game o meglio non abbiamo le immagini ma abbiamo i nomi quindi super interessante anche queste modifiche ai codici che vi farò vedere codici del piccone qualche piccola novità per quanto riguarda game stop sta diventando davvero rarissimo trovarne uno e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati con il dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per la compagnia e per i vostri saluti e ovviamente grazie anche a tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator xyuderone dagli raga iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video ma prima la domandina io ve la devo fare ve la devo fare anche ieri tantissime risposte grazie mille per i vostri commenti proprio qua sotto ma la domanda di oggi ma secondo te come mai l'isola centrale è ancora conciata in quel modo qua cioè il fortnite mers è finito nel senso via le sfide via le challenge via le skin se tornate alla normalità porco mondo ha dimenticato di cambiare l'isola ovviamente non hanno dimenticato di cambiare l'isola ma secondo te perché è ancora così sicuramente qualcosa c'entrerà con il proseguo della storyline della season c'è sempre di mezzo questo kevin come c'è anche lì a foschi fumosi il discorso kevin che fa tutti non lo so io sinceramente rimango basito non mi riproponete per favore kevin perché basta non ce la faccio veramente più fatemi sapere invece voi o secondo voi come mai l'isola centrale è ancora così ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare del primo argomento finalmente riesco a farvela vedere due giorni che devo farvela vedere ragazzi nei file di gioco è presente una copertura molto molto curiosa allora col dio bilo no no mi viene in mente bombarli a vedere questa copertura mi viene a essere la stella cicla nonne se la foglia 5 po 7 punte potrebbe anche essere equivocata io mi auguro che sia in realtà una foglia d'acero nel senso ovviamente è sicuramente legata al periodo autunnale però proprio con giudice a 7 punte è uguale a quel dio bilo quindi non lo so io ve la volevo far vedere preferirei non commentare troppo questa immagine che è comunque presente nei file di gioco copertura autunnale particolare diciamo che io l'avrei pitturata un pochettino più di verde e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ecco ecco proprio qua e se in sempre di la invece le nuove cose che arriveranno nei prossimi giorni su forte si parla di un lungo periodo ma questi sono i primi nomi inseriti già nelle stringhe di codice gadgets doodle heart scooter attenzione è un gadget non è un veicolo anch'io ho visto scooter dato porca vaca metto la moto no no è un gadget che cercheremo di capire ovviamente piano piano di cosa si parla nuove trappole cage la gabbia ragazzi season 4 già si parlava della gabbia è proprio una trappola che intrappola per un breve periodo un avversario sicuramente avranno studiato il modo per migliorarla e probabilmente la butteranno in game per provare chissà quando e il surprise parti quindi parti a sorpresa anche qua non si riesce purtroppo a capire che cosa potrebbe essere è comunque una trappola potrebbe essere fatta per carnevale non lo so sinceramente però potrebbe essere quella l'associazione nuovi consumabili tornado grenade granata tornado clone machine questa interessante macchina della clonazione chug stand chug è la chug nel senso stand e lo stand chug stand cavolo ne so io cos'è e pool floaty qua pool floaty è vecchissimo ragazzi sono cose ancora dentro i file tipo piscina volante non lo so staremo a vedere ovviamente per adesso sono nomi cercheremo piano piano di associarli anche alle immagini e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi i concept e di natale forse non lo sapete ma durante le festività natalizie ma anche in altre ricorrenze tipo l'estate roba del genere su reddit un sacco di giocatori di utenti mandano i loro concept disegnati molto semplicemente al nei vari forum nelle varie sezioni e spesso e volentieri è successo che la moderazione di epic games prendesse proprio spunto da questi concept per poi sviluppare la skin perché vi sto facendo vedere proprio questo signore molto molto strano ma anche molto interessante perché è stato reso pubblico un concept veramente molto carino che si basa proprio sul disegno inviato su reddit e devo essere sincero il north pole specialist è un qualcosa di molto molto interessante una fisionomia unica che non abbiamo mai visto in nessuna delle skin i capelli bianchi la faccia molto giovanile ma anche se devo dire l'outfit ci sta veramente tanto tanto bene va a richiamare di brutto il natale ed un backpack con un regalo di natale se ci pensiamo bene in realtà non esiste esiste il backpack che ci hanno regalato l'anno scorso l'anno scorso che è la ghirlanda con le due spade dentro se non ricordo male oppure c'è lo scar o la r impacchettato a fiocco ma un regalo non lo abbiamo questa skin a me piace veramente molto gg anche per aver reso pubblico questo concept speriamo che happy games lo prenda seriamente in considerazione e magari ce lo proponga sotto il periodo natalizio e andiamo avanti ragazzi con un altro argomento davvero molto interessante quello dei codici del piccone mint si pensava che in realtà è game stop fosse dotato di un po di più di codici per i picconi in mente in realtà non è stato così purtroppo sembrano esseri esauriti in tutto il mondo tanto che la richiesta è stata così alta che alcuni gestori di game stop ha messo fuori i cartelli questo dice attenzione fortnite mint pickaxe solo uno per persona oppure uno per bambino qua io non so da noi sinceramente la politica era vuoi il codice del mint pickaxe ti piglio una roba di fortnite ed effettivamente intanto mi avete mandato in tantissimi su instagram le foto che avete comprato i portachiavi vi han dato il codice che avete preso le figurine vi han dato il codice sono super contento che molti siano riusciti ad ottenerlo purtroppo non credo che ne troveremo altri attenzione alle truffe attenzione alle truffe non fatevi fregare ragazzi cercate sempre dei venditori legit se per caso proprio lo voleste a tutti i costi e mi raccomando pagate sempre sempre con paypal anche per oggi ragazzi le news sono finite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao